e ancora una volta è Jovic a salvare la situazione in una partita orrenda a volte va bene a volte va male è andata bene con l'Udinese è andata male col Bologna è andata bene stasera e chissà come andrà in futuro c'è tanto da dire ragazzi c'è tanto io a maggio così non ci arrivo adesso vi mostro una cosa vi mostro un non un video una copertina vi mostro una copertina vi mostro me quest'estate me ne fregherà un cazzo però ve lo mostro lo stesso questo sono io ok tanto non ho bisogno di pubblicità state già guardando i miei video questo sono io e questa è la mia faccia la mia espressione le mie emozioni durante il trofeo berlusconi l'ultima partita prima della prima di campionato titolo del video questo sono io ancora prima che inizi il campionato quindi ciò significava che i problemi del Milan non solo ce li abbiamo da inizio stagione ma ce li portiamo dietro dalla stagione scorsa perché dai cinque gol col che vi ho già ripetutamente detto che a parte invertite io non sono sicuro che avremmo preso ma che che avremmo fatto scusate non sono sicuro ma per niente oggi ci sono altri due gol incassati sei gol incassati in due partite in tre partite l'intera subito 10 gol in 24 23 24 partite bisogna vedere quanti ne prende domani sera ma secondo me si arriva uno è tanto abbiamo preso sei gol in tre partite il problema è la difesa problema sarà anche la difesa ma tanto oggi cappia non solo ha giocato una gran partita come udine ma ti ha pure è rimesso in piedi la partita io denuncio continuamente che il problema è il gioco perché ragazzi parliamoci chiaro il problema la difesa il problema sono gli fortuni tanto se il problema sono gli fortuni la colpa di allenatore secondo queste figure di merda che giocasse tomori che giocasse kir che giocasse calulu che giocasse ciao che giocasse pellegrino che giocasse tua zia che giocasse tuo fratello che giocasse il prete della chiesa qua sotto li prendevamo lo stesso avete voglia voi a dire è io vorrei giocare il derby senza la squalifica di tomori prendi 5 lo stesso ne prendi 5 ma pacifico vorrei rigiocare la partita col bologna con la difesa titolare ne prendi due e che così vogliamo andare a napoli con tutti i titolari ripareggiamo vogliamo andare a lecce senza l'infortuno di lea ripareggiamo un'altra volta che a tratti pure si perde intanto jovic quello stronzo ha salvato pioli un'altra volta a parte pioli è salvo a prescindere perché se anche le perdiamo tutte fino a fine stagione ce lo tengono a napoli l'hanno capito a roma l'hanno capito a milano non l'hanno capito e sapete a cosa mi riferisco a roma hanno avuto il coraggio di esonerare un allenatore che gli ha portato la prima coppa europea della storia e la roma magicamente da quando l'hanno esonerato ha vinto due partite su due che poi tutto è da vedere perché il campionato è ancora lungo però ho visto una roma totalmente cambiata il napoli bene o male si sta riprendendo infatti domenica prossima ragazzi c'è milan napoli ma queste botte di culo di stasera sognatevele proprio c'è ve lo dico con netto anticipo prima che voi ci rimaniate male e vi illudiate per niente che quello che abbiamo visto stasera è contro l'udinese contro napoli dimenticatevelo proprio non ci sarà mai non ci sarà mai poi leggo sui social minan deve puntare a vincere l'europa league quell'altro coglione quell'altro coglione in conferenza stampa che dice che ci sono i mezzi per salvare la stagione poi va a frosino ne gioca una partita così io non so che dire che poi mi fate anche ridere perché anche contro cos'era udinese no è dice che il campo è difficile poi vuoi stravincere siccome voi credete troppo ai pianeti che si allineano agli oroscopi alle costellazioni udino un campo difficile sì frosino è un campo modesto sì ma poi bisogna vedere come giochi se frosino è quattordicesimo e tu ti fai mettere sotto per mezz'ora devi perdere ma siccome ti mettono sotto con la minima di col minimo sforzo è lì che ti fa rudere il culo perché poi come il mio è nascito un secondo non l'ha solo pareggiata l'addirittura vinta ma noi non possiamo andare avanti ragazzi non possiamo andare avanti non possiamo andare avanti a sperare che ci sia il colpo nei minuti finali che comunque col bologna tolto il rigore per il bologna all'ottantatreesimo l'avevamo rimessa in piedi poi dopo è successo quello che è successo meritatamente abbiamo meritato di pareggiare e guardate quasi quasi avrei voluto pure perdere scendiamo nel dettaglio scendiamo nel dettaglio il frosinone che già dopo un minuto mi ha fatto venire voglia di staccare la partita già 2500 buchi problemi difensivi che poi abbiamo sti problemi con frosinone con rudinese io napoli ren lazio spero che quei giorni non arrivino mai si va avanti troviamo gol sul primo tiro in porta della partita dove girù onestamente fa un bel fa un bellissimo stacco di testa perché l'unico modo con cui fa gol manco più su rigore segna andiamo avanti e cosa succede il terzo rigore contro in un mese abbiamo avuto rigori contro atalanta roma bologna anzi il quarto scusate atalanta roma bologna e frosinone quattro rigori contro ragazzi più i tre della prima parte di stagione inter borussia dortmund e udinese spero di non aver dimenticato niente siamo nove rigori e sette di cui di cui il milan ha sbagliati tre e ne ha parati zero quindi siamo a sei gol su rigore segnati e sette subiti abbiamo in passivo pure rigori pure quelli c'è megnano parano un rigore e non ti chiedo di 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 tirare fuori l'uccello e colpi la luna ma cazzo ma parano un rigore paralo intuisce sempre ma la chiappa mai ma di chiappa oltre che intuì ennesimo rigore netto rigore evitabilissimo perché rigore evitabilissimo cioè noi siamo quella squadra che prende rigori che concede rigori sui cross è una cosa di un vergognoso assurdo ora io posso capire il giocatore lanciato a rete tira tira sbatte sulla mano lanciato a rete devi buttare giù perché sennò è rigore tutti i rigori sul lato corto dell'area tutti sui cross tutti su cose che basterebbe stare veramente un pelino attenti e si eviterebbero subito come se col bologna se tu difendessi a modo quella palla non passa stasera leao poteva anche lasciarlo corsare la palla andava vaffanculo e niente abbiamo dovuto da rigore per forza il primo tempo che finisce e secondo che inizia una prestazione penso le peggiori di questa stagione tanto che trovano pure il gol del 2 1 su una dormita assurda nata da una punizione per il quarto fallo di braccio della partita mi hanno fatto quattro falli di mano una cosa da serie c da serie c megnano prende il secondo gol sotto le gambe della in due partite testazione di megnano 3 punto voto 3 perché poi ovviamente non ha fatto niente forse fatto mezza parata nel primo tempo milan che esce fuori e qua vi voglio fare un appunto che ho fatto anche in live renders si fa munire salterà a milan napoli ma non sarà l'assenza di renders a fottere quella partita saranno tante altre cose non vi preoccupate perché il milan col napoli non ci vince neanche se pregate in aramaico tranquilli renders può tranquillamente giocare 90 minuti pioli deve far entrare bene a ser perché come avete visto è un centrocampista di tutt'altro livello togli ad li che ha fatto una partita a diri poco scena no toglie renders che può giocare tranquillamente 90 minuti toglie lui ok poi succede che gabbi attacca lo spazio jovic attacca lo spazio il milan vince la partita e bene o male nel finale non subisce niente e cosa molto rara da queste parti conclusione del discorso tutta questa predica per dire che non c'è un cazzo da esultare che quando vedete il video della live reaction domani niente ragazzi non si esulta ripeto si esulta quando giochi bene o quando vince a culo ma la partita è difficile juventus inter le competizioni europee lì si vince a culo in una partita equilibrata due squadre alla pari o addirittura il tuo avversario è superiore a livello di rosa di gioco tutto quanto a parte sono tutti superiore a livello di gioco però come squadra è più forte vince all'ultimo bene ma contro queste squadre ragazzi un conto è pronostico un conto è la partita non c'è non c'è cazzo non c'è cazzo ci vediamo domattina con la live reaction statemi bene ci vediamo ragazzi sempre forza milan e piori out